Bella raga io sono Gattopazzo Sono ritornato qui Oggi su Fortnite farò un'altra partita In singolo Per una partita Così E niente Vi metto subito alla partita Eccoci ritornati Sono qui Sono ritornato Siamo saliti Sono sul bus Io direi di scendere Non al Colosseo Ma qui per fare un po' di taglie Quindi So che c'è il nostro mancake lì E io vado sempre lì Quando voglio farle taglie Quindi Andiamoli Allora Volevo parlare di un po' del programma Di questo video Cercherò di fare un video Un giorno sì e un giorno no Tra me nel weekend Che magari Non resta Volevo Se non so Vero Dipende da Da me Ecco Quindi Nella settimana Magari un giorno sì Un giorno no Mentre Nel weekend Non lo so ancora Tra l'altro Ho acquistato ascia Cramellata Che è veramente Un piccone bellissimo Che è anche raro E noi Certamente Vi depressione Eine squadte Ever Di Di Adesso Dispuno Di 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 dai faccio preparati ok eccoci ritornati allora io direi di scegliere a torri di siac sento mi piace cosa sentito cosa sentito ma c'era un tizio che urlava mio dio non è che ci sceglie alla torri di un lato dai dai oh 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 allora allora non c'è gente c'è gente credo ma non c'è 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 merda dai porca piccola puttana vabbè mi sono rotto le palle vabbè raga io credo che questo video può terminare qui e niente, accendo i bacchi così e bella!